Dialogo ecumenico nel segno dell'amore misericordioso di Cristo e pace in un mondo insanguinato dagli interessi egoistici e dalla strumentalizzazione della fede. La visita di Papa Francesco in Armenia ha già prodotto un primo frutto concreto, la firma di una dichiarazione comune con il Catolicos Karekin II. Nel documento siglato a Ech Miadzin, centro spirituale del paese, si enumerano le drammatiche pagine di violenza del nostro tempo, innumerevoli persone innocenti uccise, deportate o costrette a un doloroso e incerto esilio da continui conflitti a base etnica, politica e religiosa nel Medio Oriente e in altre parti del mondo. A una voce i due leader religiosi auspicano il cambiamento del cuore in tutti quelli che commettono tali crimini e in coloro che sono in condizione di fermare la violenza, condannando con forza quanti usano la religione in modo fondamentalistico. L'orizzonte delle preoccupazioni si dilata sino ad abbracciare anche gli effetti nefasti della secolarizzazione e le minacce contro l'istituzione della famiglia. Le 52 ore del pontefice nel paese delle pietre urlanti si sono concluse al monastero di Korbirap, uno dei luoghi più sacri della chiesa armena, nei pressi del confine con la Turchia, ai piedi del monte Ararat. Qui San Gregorio l'Illuminatore fu imprigionato per oltre 13 anni in un soffrofondo prima che il re Tiri, date terzo guarito per sua intercessione, si convertisse proclamando l'Armenia nazione cristiana. In questo scenario suggestivo di rara bellezza, Papa Francesco e il cattolico Oscarich in secondo hanno liberato due colombe, un auspicio di pace e fraternità tra tutti i popoli nella consapevolezza che il Signore può spezzare le catene dell'odio con il suo amore senza confini. Grazie a tutti.